L'impianto attivo dei freni di emergenza segnala al conducente il pericolo di una collisione frontale imminente e lo invita a frenare mediante segnalazioni visive e acustiche sul quadro della strumentazione e sul display di segnalazione. Se la frenata del conducente non è sufficiente, viene attivato l'impianto automatico di emergenza dei freni per evitare o ridurre la collisione. È possibile disattivare il sistema tramite lo schermo multifunzione. Il sistema viene automaticamente riattivato al successivo avvio del motore.